Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E siamo qui ragazzi con le modifiche dell'auto Sultan da Benny nel garage di Benny per modifiche incredibili Se vi foste persi ragazzi il primo veicolo che abbiamo modificato, la Banshee, andatelo ovviamente a guardare Perché quell'auto è stata veramente spettacolare Adesso andremo a vedere cosa potremo fare invece in quest'auto, le livree da utilizzare e tutto il resto Allora andiamo subito su modifica e qui dobbiamo pagare 755.000 dollari Cioè l'auto di prima era 536.000 se non sbaglio, adesso 755.000 Mamma mia ragazzi e noi ovviamente li paghiamo Guardate già qui la marmitta che si è montata, perfetto iniziamo già in maniera fantastica Allora ovviamente noi puntiamo subito alla parte estetica dell'auto Allora paraurti anteriore, splitter personalizzato, RS classico, sticker bomb Questo non è male, RS drift E poi andiamo avanti ragazzi, cioè sono veramente bellissimi e diversi Cioè sono completamente diversi l'uno dall'altro Ragazzi sono troppo belli, non lo so Direi di prendere questo, RS drift e canard Sì, quello, cioè gli altri sono per esempio questo qui ragazzi Non so, uno spoiler appunto da strada esteso E secondo me è troppo esteso, non mi piace molto, preferisco questo qui Poi andiamo a vedere quelli posteriori che nell'auto precedente non c'erano ragazzi Cioè soltanto qui Allora, vediamo un po', cioè guardate sono veramente particolari queste modifiche qui Io direi di mettere questo GT, poi non so, RS drift Abbiamo questo, però nel paraurti anteriore c'è la colorazione nera Quindi direi di mettere quale ragazzi, quale questo qui avanti Con le piccole prese d'aria Poi vediamo i telai Allora, rivestimento fari Questo qui è nuovo ragazzi Rivestimento fari è nuovo Con prese d'aria Ok, c'è la prese d'aria nel faro, perfetto I fari però non li voglio coprire Allora abbiamo le palpebre per i fari praticamente Non lo so, non lo so Ragazzi io non li metto queste cose qui Perché sinceramente l'auto è più aggressiva senza queste cose Anzi potrei mettere prese d'aria Avanti mettiamo con prese d'aria Però almeno il faro resta, come dire, un po' pulito E non, come dire, coperto così Che non mi piace tanto Quindi mettiamo ragazzi questo qui con prese d'aria Poi andiamo su fendinebbia Rally No, questi non mi piacciono molto Prese d'aria, tettuccio Abbiamo questa qui standard E poi in carbonio Dai mettiamoli in carbonio Portiere Deflettori, aria, coordinati Ok Ok, questi qui sono veramente carini Rete di protezione Questo qui diciamo che si potrebbe abbinare alle modifiche rally Però noi appunto cerchiamo sempre di fare ragazzi un'auto da strada Tutta assurda Quindi Quindi no, queste cose qui non le metto neanche Però ovviamente vi mostro tutto Poi Mezza gabbia da strada Ok, questo è bello Gabbia protettiva Gabbia protettiva imbottita Interna E interna imbottita Allora, questa non è male ragazzi Interna imbottita Non è per niente male Ovviamente siamo sempre nelle modifiche da rally Però questo qui mi piace Questo mi piace molto Lo mettiamo, lo mettiamo Poi Andiamo su parafanghi Vediamo cosa abbiamo nei nostri parafanghi Ok Guardate qui Veramente bellissimi Uuuuh Cos'è? Estensioni arcate sporgenti Ragazzi, guardate qui Proprio la carrozzeria viene modificata Questi non sono male Però preferisco i parafanghi così Con le arcate in carbonio Direi di sì Poi andiamo su griglie Rimozione griglia Ok, qui si vede direttamente il motore Il motore dentro Intercooler Perfetto E poi altre cose Ma qui sinceramente non so Non so che cosa mettere ragazzi Cioè, con lo standard è molto più bello Secondo me Intercooler gigante Boh, vabbè dai Modifichiamo un po' l'auto Mettiamo questo Anche se sinceramente avrei lasciato Questo qui ragazzi Quello standard Poi andiamo su cofani Vediamo se c'è qualcosa di nuovo Ok, qui abbiamo parzialmente trasparente Quindi si vede parte del motore Però non mi piace molto E credo che questo sia il migliore Areato ragazzi Ok Poi andiamo su interni Rivestimento Design rivestimento Strisce Parasole Dove sono? Ok, sono qui le strisce Parasole Queste le mettiamo Colore rivestimento Vediamo un po' Ok, qui a differenza dell'altra auto Possiamo modificare un po' l'interno ragazzi Per quanto riguarda il colore Allora, quest'auto direi di farla rossa Già mi piace molto Quindi gli interni Li facciamo ragazzi Anche rossi Sì, li facciamo rossi Perché alcune parti poi restano nere Quindi si crea il colore perfetto Vediamo un po' di prendere il rosso Che ci interessa a noi Dovrebbe essere il rosso Torino Sì ragazzi È rosso più acceso che c'è Quindi prendiamo rosso Torino Poi andiamo su ornamenti Ovviamente qui ci sono sempre i pupazzini Mettiamo Mettiamo la scimmia Sì dai Mettiamo il poco rosso avanti Non l'avevo messo finora mai Nessun'auto Poi qui cosa abbiamo? Interni da strada Ok, qui alla fine come vedete Non cambia chissà che cosa Però qui si vanno ad aggiungere Tutti questi pulsanti Per varie insomma cose Sarebbe bellissimo Avere ragazzi in queste auto Il NOS Sarebbe una cosa epica Però purtroppo non c'è Mettiamo in carbonio Interni tuning Sì direi di sì Dai mettiamo questo ragazzi Poi Quadranti Cos'è questo? Base e contagiri esterno No, mostruoso Ragazzi questo è epico Lo metto per forza Su cruscotto E contagiri est Boh, non lo so ragazzi Lo metto Lo metto perché è bello Andiamo su portiere In carbonio Ok, anche qui abbiamo gli interni Piuttosto però standard Direi ragazzi Qui di mettere gli interni In carbonio E non in alluminio O insomma Dove praticamente Non si vede nulla Quindi mettiamo In carbonio Poi i sedili Sportivi Andiamo un po' Perché non mi fa girare Cioè quello Quello lì Sembra il NOS ragazzi Ragazzi ma non è che c'è il NOS In quest'auto Dovrebbe essere il NOS Ma Boh Non lo so Non lo so Non ho ne ho idea Allora adesso vedremo Qui purtroppo non mi fa vedere C'è soltanto il lato posteriore Dei sedili E mettiamo Mettiamo questi ragazzi Non so Non so cosa mettere O sennò mettiamo questi qui Che sono più grandi Da pista in fibra No, no Da pista no Mettiamo quelli che avevo messo prima Poi i volanti Abbiamo gli stessi volanti Dell'altra auto E mettiamo Questi Cioè Quale mettiamo Mettiamo questo Sultan Proprio per quest'auto Poi c'è qualcos'altro Quello ragazzi Ecco questo qui non è male Però ho messo già qualcosa di simile Nell'altra auto Quindi lasciamo quello lì rosso Colore luce Qui mettiamo un colore Sempre Più o meno scuro Questo va benissimo Poi cosa abbiamo Cosa abbiamo ancora Le luci li metteremo dopo Livre ragazzi La cosa più importante Probabilmente Dell'auto Allora strisce RS nere Perfetto Queste qui Le conoscevo già Poi Cioè guardate questo Che particolare Sono veramente belle ragazzi Però ci vorrebbe un qualcosa Che va a coprire un po' Tutta l'auto Ecco tipo questo Tipo questo qui Però anche se è rosa Non mi piace tantissimo Però ragazzi È la modifica Se devo essere sincero Più particolare Di tutte La livrea più particolare Perché poi Non abbiamo altro Quindi Quindi direi di metterla Oppure no No ragazzi Non la metto Dai mettiamo Qualche cosa di Di più carino Vediamo un po' Questa non è male Anche perché adesso Andremo a mettere Tutto il colore dell'auto Principale Rosso Quindi verrà fuori Qualcosa di Veramente bello Ok ho messo Un bel rosso lava Ragazzi Per entrambi i colori Sia primario Che secondario Colore rivestimento Ho già messo Ho già messo Il colore lì Rosso Torino Quindi va benissimo Questo qui E poi ragazzi Tettucci Vediamo un po' Vediamo un po' Questi qui sono Molto molto particolari Eh no Il tettuccio pure nero Potrei metterlo Ragazzi Potrei anche mettere Il tettuccio nero Oppure no Sì dai lo metto Lo metto in carbonio E generatori Vortice Perfetto vai La nostra auto È un vortice Minigonne Vediamo un po' Qui cosa abbiamo Nulla di eccessivamente Particolare Però mettiamo queste qui Spoiler Spoiler Cosa c'è negli spoiler Vediamo un po' Vediamo un po' Questo non è male Ragazzi In carbonio Eh Neanche questo è male Alettone Muscle killer Cioè guardate questo qui Ragazzi Ma questo è assurdo Questo ragazzi È incredibile Che spoiler sono Io lo metto Lo metto ragazzi È totalmente assurdo Sospensioni Li mettiamo da gara E poi Poi non so Andiamo su ruote Tipi di ruote Mi sa che metterò Le stesse ruote di prima Perché erano Veramente bellissime Oppure metto queste Queste vanno bene Anche se Non sono dei cerchioni Che stanno benissimo Con questa tipologia di auto Però ragazzi Va bene Va bene lo stesso Dai Poi Pneumatici Ovviamente design Andiamo a rimettere Atomic Perché non voglio fare Colori assurdi Insomma Nelle gomme Mancano i neon Schiema neon Al massimo E vediamo un po' Che colore posso mettere Direi di mettere Anche qui Un rosso Oppure un Un arancione Direi di mettere Ragazzi Un neon rosso Sì Anche se abbiamo fatto Tutta l'auto rossa Però lo mettiamo Va benissimo E usciamo da Benny Originals Motorsport Con quest'auto Incredibile Lo spoiler Ragazzi L'alettone Qui è La cosa più assurda Secondo me Veramente bellissimo Comunque Anche quest'auto E non Insomma È assurda Io veramente Non ho parole Ragazzi Per queste modifiche Sono troppo belle Apriamo anche qui Tutti Tutti gli sportelli Perfetto Cioè guardate Guardate è fantastico Scendiamo un attimo Voglio vedere In prima persona L'interno Dell'auto Così Ragazzi Guardate È incredibile Comunque Qui c'è il nos Però se io entro in auto Non penso che Cioè non mi dà Nessuna 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 abilità Ragazzi Cioè Premendo il clacson Teoricamente potrebbe fare Come la moto electro Che ha il kers Ma qui ragazzi Non c'è proprio il nos Non c'è nulla da fare Detto questo Nulla Io spero che il video Vi sia piaciuto Questa era la seconda auto Di questo DLC sorpresa Vi ripeto Se vi sostepersi La prima modifica La troverete ovviamente Nel canale Con anche il Il video Della nuova modalità Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui ad extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti